Ancora una volta il santuario della Madonna delle Grazie è qui in San Giovanni di Gerace e gremito fino all'inverosimile di fedeli, corsi per l'occasione da ogni parte della Calabria. Sono sette giorni passati dalla domenica, terza domenica di settembre, giorno ricorrenze per la festa e per la deposizione, per la collocazione nella sua nicchia una grande messa solenne. Tanti cifadeli, ma nello stesso tempo è stata anche un'occasione per ricorrere, aprire il nostro cuore a Maria. Tanti cifadeli, tanti pellegrini, con le lacrime e gli occhi, con lo sguardo rivolso verso la Madonna delle Grazie, hanno voluto ancora una volta soffermarsi ai suoi piedi per ringraziarla per i tanti doni dati. San Giovanni e la Madonna delle Grazie costituiscono un tutt'uno. Il santuario è il punto di riferimento per la pietà popolare, per la fede che ha animato per secoli, per millenni, la vita di questo borgo di Calabria. L'occasione è stata profizia. Ancora una volta il popolo san Giovannese, dei paesi circonvicini, dalla Piana, sono venuti per la circostanza. Ancora una volta abbiamo vissuto con viva fede, intensi momenti di religiosità e di pietà popolare. Un qualcosa che non guasta per questa derattita terra, per questa nostra zona che augura e auspica una società più giusta ed una umanità migliore. Allora siamo arrivati alla conclusione di questa grande festa. Dieci giorni abbiamo vissuto veramente momenti importanti della fede. C'era una grande folla ogni giorno, tutto il giorno, anche per la comunione, confessione. Io ho vissuto veramente giorni di grande santità insieme con la mia gente, che è stata veramente accogliente in ogni momento, con grande devozione al partecipato alle celebrazioni. Per me come sacerdote questi momenti non solo soltanto una festa esteriore, ma è stata anche per me una festa interiore. Mi ha rinnovato la mia vita sacerdotale, ho trovato tanta gioia nel fare questi servizi in questo santuario, in presenza di tanta gente che crede veramente, fortemente, con grande zelo e entusiasmo. Vengono anche talvolta con le lacrime a deporre tutto ai piedi di Maria Santissima delle Grazie. Oggi anche abbiamo avuto una grande folla per concludere questa festa. E tutta la gente rimane veramente stupita di questo santuario così bello e allo stesso tempo invocare Maria Santissima per ogni grazia che hanno bisogno nel loro cammino. Io prego per questa gente perché nelle famiglie hanno mille difficoltà, però noi deponiamo tutto nella mano del Signore perché il Signore sa molto meglio di riorganizzare ogni cosa nella loro famiglia. Noi preghiamo, come Paolo oggi ti dice, dobbiamo soltanto chiedere al Signore ciò che abbiamo bisogno con grande umiltà, ammitezza, spede e speranza. La giornata di chiusura dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, un'occasione speciale. La statua della Madonna dopo i dieci giorni della festa ritorna nella sua collocazione sull'altare maggiore. E la chiusura della festa è l'occasione per i ringraziamenti. Abbiamo provveduto stasera ai ringraziamenti, a ringraziare le centinaia, le migliaia di fedeli, devoti, pellegrini che hanno riempito questo santuario per dieci giorni, soprattutto nei due giorni della festa, sabato 15 e domenica 16 settembre. Un ringraziamento dovuto a tutti quelli che hanno preso parte a questa bella festa popolare, festa sentita, un santuario gremito di fedeli in ogni sera, in ogni celebrazione, una festa piena di significato. E il ringraziamento poi a Don Francis che di tutto questo è l'artefice, l'autore principale, riuscito a coinvolgere sempre di più e sempre maggiormente i nostri fedeli, devoti, sia San Giovannese all'estero, sia fuori paese, sia i nostri pellegrini provenienti dalla Piana di Gioia Tauro. Quindi la festa si chiude così con i migliori auspici perché questo santuario possa essere sempre di più conosciuto e la sua immagine positiva, diffusa in tutta la provincia e in tutta la nostra regione.